Io con quell'interrogazione l'ho chiesto al Presidente Vendola, con un'interrogazione con una richiesta di risposta scritta, cosa che ancora non è arrivata, però nel frattempo ho ritenuto opportuno che la gente sapesse, quindi intanto facciamo conoscere quello che è successo alla gente con questa conferenza stampa, diciamo che noi in quel processo sullo scandalo delle cliniche private con Tedesco ci siamo costituiti come dovevamo fare parte civile, la Regione ha messo un legale esterno per poter fare questa operazione, tenete conto che noi di avvocato esterno spendiamo circa 15 milioni di euro all'anno, per cui è una cifra importantissima, ebbene questo avvocato si è dimenticato di riapporre la sua firma in calce ai documenti, quindi io ritengo che sia un'accusa gravissima e che la gente deve prendere atto di questo fatto e chiedo ancora avendola con questa conferenza stampa, chiediamo perché ci sono anche gli altri due consiglieri dei moderati popolari, chiediamo che ci dia spiegazione non solo a noi ma anche a chi rappresentiamo, ai cittadini.